Cineforum, nell'attuale penuria di esercizi, vado al commercio equo e solidale. Fra i prodotti e le foto, ventri idropici, benefattori e sorrisi indicibili, scetticamente entusiasta il gestore, sembra affetto da un sonno tropicale. Forse lo stesso da cui rinveniva Orsono cinquant'anni al Cineforum. L'austerità, la sobrietà, proibiva a qualsiasi rumore di intaccare l'eminenza di grigio di quei film. Solo il fruscio di un foglio al ciclostile, scarsamente leggibile talvolta. Scettico ed entusiasta lo spiegava.